Rieccoci con una nuova puntata di Dungeon & Dave Board Game. Oggi andremo a vedere i gameplay della seconda di luglio di Pandemic Legacy stagione 0. Non è troppo che poi gli scuotri il cervellino e fanno cose strane. A proposito di gente che fa cose strane col cervellino. Anche perchè se abbiamo la botta di C che lo inchiodiamo subito e attorno, cioè che lo costringiamo a rinvenire in un altro momento. Tanto per me la satellite può capitare in ogni momento. È una di quelle carte Evergreen che bene o male. Fortuna che è una risetta. Lei è il suo bet. Vai così! Vai così! Il posto di blocco ci piace. Ogni giocatore può tra l'altro. Qui invece lo pianti l'hielo. Lo pianti l'hielo finita lì. Beh io ho varietà signor Mario. La varietà è importante. Può collocare al final del segnalo inizio. Senza spendere carte. L'ho capito cos'è. Anche io capisco cos'è. Capisci cos'è anche tu. Ah però adiacente la città in cui si trova. Eh vabbè ma se noi dobbiamo essere tutti piazzati. Uno si mette qui, l'altro si mette qui. Esatto. Dobbiamo essere piazzati. Chiudo. Che poi in realtà basterebbe che tutti e due fossimo. Uno qui. Esatto. Uno qua. Ma anche tutti e due lì. Ma anche solo qua. Ah. Due giocatori lì. Fine. Due, tre, quattro. Ok. Io però. Ah vabbè. Fai tutte le mosse. Non so. Andiamo a vedere che cosa peschiamo. È zitta zitta. Mette su più delle agenti. E direi che... A Istanbul. Secondo me lei è sagittario. Può essere cagliare. Questo spoiler alert clamoroso. Tanto c'è sempre all'inizio della partita spoiler alert. Ah ok. Allora posto. Quindi possiamo dire tutto quello che ci passa. Che bello. Ma tanto è del 1 quindi. Esatto. O del 2. Del 1. Del primo. Che bello. Il primo è stato veramente bello. Siamo... Noblesybeer. Noblesybeer. È il tuo canale. Ah vabbè vabbè. Adesso l'ho messo. L'hai fatto bene. Dovrei metterlo anche in quei tutti i paneli. Però... Allora. Con le prime due vado a Città del Massimo. Due. Tre cavo una gente. E quattro vado a Los Angeles. Scaliccio. Ma che cazzo. Washington. Va benissimo. Bogotà. Beh. Città città. Sono tutte città da me. Io... Tesca. Mosca. Mosca. Pechino. Sono tutte lì eh. O va che dopo da lì si passa via. Io ti invito quindi. Un. Due. Tre. E quattro. Giocatela subito. Giocatela subito. Che così ti liberi già lo spazio. Quindi. Giochiamo posto di block. E attiviamo due checkpoint a testa. Un. Riattivo questo. E questo. E riattivo gli altri. E questo. E questo. Che bella sta buon sacco. Lì. Già finito quello? Quello. Il suo da rimuovere. Bisogna solo rimuovere quello lì con una squadra. 90. E arriva. Dopo è già completatelo eh. Sì. Esattamente. Facciamo andare là proprio. Tarandara. Tarandara. Un. Bogotà. Ah. Ma... Si sentiva esclusa Bogotà. L'uscita sia lì che lì. Ci viene a raffreddore il monte di testa. Due. Tre. Paola. E' anche quattro. Esatto. Ci colpa in anche il turno dopo. Ecco subito. Non avevo guardato le carto. Beh non che servisse a quanto pare. Vediamo cosa salta fuori Bacdata Stai volendo Tranquilla lei Iniziamo con gli incidenti No dai A noi A noi no Non è andata bene Andita Cerca da sotto che vediamo cosa esce fuori Rimuove la casa Collocano gente in ogni città con uno o più segnali d'incidente in Asia Che due puzzle Questa va qua vero? Esca ancora Un'altra? Si Con l'incidente in Asia Collocano gente in ogni città con uno o più segnali d'incidente in Asia Di nuovo? Non scherzi no Ok Non è buono Costo costo è cattivo Perché cazzola avete aumentato Liberiamo battaglia Puoi andarci giusto Si 3-4 3-4 Tanto lì non c'è L'osservazione sarà No no Andiamo a pescare Beh questa è buona Questa è una cosa Ah ha detto Cubo manatti a Roma Bogotà 3-2 3-4 Puoi fare anche un'altra Puoi fare anche 5 E Posso andare qui un attimo Poi toglierne uno E poi 5 E poi toglierne un altro Da lì E poi scappa Continuo con la mia neutralità Vabbè 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 Mettiamoci Non ci stanno guardando Ma li salutiamo lo stesso Mettete Stà Stà provando Io Non me la leggo Ma preparo il filo Per dire 1-2 2 3 Andiamo a pescare Capita Che senti buona Vista sfocata e a spegnata Calcutta e Parisi Sì Sì Squadra comunista Non cerca Non ne vedo l'utilità Novo Zibiesca Ah è stasera Aves è appassionato Devo sfruttare la mia abilità Tocchina Ma ce l'ha quella lì? Sì Sì Anche me lo dimentico Ma poi io guarda 3 trasporti 1 2 3 4 4 3 4 4 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 16 16 16 17 19 16 17 19 20 19 22 22 23 22 24 22 23 23 24 23 24 24 1, 2, mostrando la carta, 3 e 4, mi pigliavo cosa? Va bene, può andare, ci piace, vado ad ora? Siamo a posto, Fraga e Parigi Va bene, ho una carta in più, scarpechino, ciccia, 1 L'ultimo posto a Washington, e tra faccio la squadra 4, l'altro c'è quello che cambia le squadre allora si va bene quindi intanto accanto queste qua che siamo a posto eccola qui escalation Bangkok ah Los Angeles che però potrebbe non essere una brutta cosa che ci penso tutto sta a noi sempre lui incredibile Bogotà no Bogotà cioè va a tre però 1-2 puoi spostare la squadra ah si vai che questo va via e abbiamo completato quello si leggi il rapporto 141 la vostra squadra ha messo all'angolo l'interrogato disertore una botanica che aveva un contratto con la CIA a quanto pare si è imbattuto in alcune informazioni sui test del Medusa e ha erroneamente concluso che la CIA avesse evitato di proposito di fermarli il disertore ha accettato denaro dalle fonti sovietiche per consegnare dei dati relativi a un esperimento sul poline sugli agrumiti sugli agrumiti ok rimuovete tutti i segnalini cerchi dal tabellone rimuovete due agenti dal tabellone barri lima va tolta lima che non è uscito vai o guarda o guarda il mio per questo ancora il palle tre per toglierlo quattro quelle anche più neri quelli eh si è fino a tre non c'è l'oservazione di non questi qua non vanno via bravo mi sei presunto e che devi scartare le due la scartare oppure le due comuniste o scarto non so le due comuniste ci si possono servire ma se scartassi la lana e che lo lasciassi a te questa qui ti lascio la lana che stai guardando da su ce l'hai già lì e appunto dico scartare le due comuniste quindi la tua è ancora un problema tu i problemi non sono ancora risolti scartati ecco adesso ne viaggio due a tre ci piace buonanotte ma è vero Lima e Madrid ok allora uno facciamo così uno due tre e quattro e mi dai due carte sintomo e così sono sei cos'hai perdita di memoria e iporreflexia ah mi capite la lana non è vero no osache buenos aires ma tra tipo Parigi sì Parigi che è abbastanza sì allora Lima e Madrid due sono sì allora intanto cambio questo e prendo questo e siamo a due vado ad atalanta e prendo atalanta vedi fai cos'è tre e vattro per forza poi c'era sperato che scaglie meno uno da lì sono quattro vero che giolli questo è un giolli importante l'unica cosa devo scartare scartare musca se non scartare un po' gotà tanto non ci viaggio io poi comunista scartare musca l'unica 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 cubo buenos aires eh vabbè cubo parigi un due tre quattro bravi porta l'angeli e poi l'unica 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 anticipi a noi va bene fai così allora no te lo sei tirato da solo no fortunatamente sono nella casa sicura se l'hai tirato da solo non si credo interferenza nelle frequenze guarda quella tua pescata però vai ciccio bravo posso già usarla posso però male per ilia non vedo di scartare qualcosa a chi l'hai chiesto se io volessi scartare qualcosa posso si non scarterò neanche oggi ha rotti i coglioni due ore perché glielo tiravamo che capolavoro lo facciamo per voi eh pechino ecco tutto tuo ma qua esce los angeles e il cubetto praga ne togli uno e ti tiri dietro la squadra la squadra la squadra la squadra la squadra la squadra allora ho tirato sull'escalation e muovi una squadra un massimo di tre città per non scartare a parte che c'è anche una volta tranquilla non so dove deve andare la squadra 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 neanche uno due tre cambio la filiazione di quella lì quindi cambio il furgoncino e a uno o l'altro sposti guarda si 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 no l'unica cosa scusa tronti allora quasi ho quasi riuscito a fare una combo perfetta colloca un agente in una città con uno più segnale incidenti in Asia minchia perché in questo caso quante sono le carte la pesante stessa cosa ma in sud America ci viene solo in Asia perfetto prendilo per precisione due tre e quattro devi attivare però cosa ce la fare e qui è il versaglio che deve andare a Washington che si bacca e si bacca e fin qua adesso è tutta tua da qualche cubo malattia cos'è Shanghai e uno setto San Francisco San Francisco colloca un agente in una città con uno più segnalini incidenti in sud America ok a noi sempre lei anche lui è proprio un puttanabla stasera sta cosa Andy ce l'hai presa a noi a North America ultima abbiamo l'ultimo cubo Bogotà no Boston scarti io Hannesburg c'è c'è praticamente usi il volo commerciale per andare là e poi usi il volo non tracciato scartando puoi attivare acquisisci dichiara l'acquisizione del bersaglio acquisisco bersaglio il rapporto 171 ah beh le squadre si sono spacciate per i traulici hanno piazzato una cimice nel centro di controllo applicate un adesivo cimice sull'angolo dell'adesivo centro di controllo in Africa per indicare che è stata piazzata una cimice fatto con un punto vittoria abbiamo messo una contosorveglianza a Novosibirsk che sarà riempita praticamente di incidenti e poi con gli altri tre punti assassino all'angue abbiamo messo politico quindi una volta per turno con un'azione mentre ti trovi nella città del politico puoi cedere una carta a un giocatore in una qualsiasi città così come anche visto e sempre a Berlino Est così abbiamo la casa sicura e si può andare tranquilli